Ciao amici di Sole della Fabio Nezac, oggi un pensiero molto semplice, smettiamola di odiare il mondo, altrimenti il mondo si arrabbierà con noi, piuttosto innamoriamoci della vita, che la vita poi si innamorerà di noi, attraverso gli eventi, si offrirà la passione, perché il giudizio, il rancore soprattutto, anche quello più sottile, quello che sembra non esserci più, è quello che crea le nostre difficoltà, chiediamo si neutralizzino quelle ombre più nascoste, quelle che risalgono ai tempi in cui eravamo in pancia della nostra madre, che nemmeno ricordiamo ovviamente, chiediamo si neutralizzino da ora per sempre e per l'eternità, sono ombre che ci sono servite, sono ombre che fanno parte del nostro bagaglio karmico, è un atto di convenienza, dobbiamo dire al nostro cervello, segui quella strada, perché a noi non conviene avere un mondo che si ribella, perché cosa significa? Che altrimenti rimaniamo bambini, ma bambini arrabbiati, arrabbiati con papà e mamma, ci conviene? Non tanto, un abbraccio da Fabio Nezac Grazie 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 Grazie